Giorno di schieramento formazione ragazzi, quindi se avete dei dubbi, se non sapete chi schierare tra Ciaona e Kastanos, tra Zanoli e Pongracic, correte a vedere il video con gli 11 giocatori non scontati per la 29esima giornata, con indicazioni interessanti per quei terzi e quarti slot da inserire nei vostri ballottaggi. Se invece avete tutti dei top, la formazione la fate tranquillamente senza dubbi, in caso contrario correte a vedere il video. Come spoiler, dai, due nomi così, vi posso dire che c'è Vasquez in difesa e Ben Nasser tra i centrocampisti. Buona fantagiornata a tutti, a presto!